Ehi ma, dobbiamo dire una cosa, cioè Clara ti vuole dire una cosa, cioè io ti dirò una cosa che Clara ti deve dire. Madonna mia, buro Dio. Ma tu ci sei mai stata a una festa? Non dovevate andare alla festa, dove stai sta a festa? La macchina. Ah, sei scassata la macchina e ci siamo fermati qua. Grazie.